Grave incidente questa notte sulla 2 in direzione Salerno nei pressi della Galleria Rufoli. Un uomo di 42 anni residente a mercato San Severino si è schiantato con la sua auto contro un furgone in sosta, probabilmente per un colpo di sonno. Quattro in tutto i feriti, soccorsi dal Vopi, dalla Solidarietà, dalla Croce Verde e dall'unità rianimativa della Croce Bianca. Ad avere la peggio, proprio il 42enne conducente dell'auto, attualmente ricoverato in prognosi riservata con traumi alla faccia e all'addome. Sul posto anche la polizia stradale per i rilevi del caso.